Sono qui, Kaku! Irradiami del tuo splendore, luce della giustizia! Un essere supremo che non sa come distruggere il male, non avrebbe ragione di esistere! Imposizione! Dammi una mano! Eccomi! Con gli orecchini potate! Vado il momento della nostra fusione! Non voglio più fondermi con te! Te l'ho già ripetuto mille volte, Karot! Ascolta, se non vogliamo i nostri poteri attraverso la fusione, non avremo mai abbastanza forza per sconfiggere quel farabutto! Immagino che lo sappia bene anche! Transit, dammi un fagiolo di balzare! Ah, subito! C'è una cosa che non riesco a capire! Come mai l'ultima volta che ci siamo fusi, mi era stato detto che non saremmo più tornati alla normalità? In effetti, questo vale solo per i Kaioshin, per gli altri, l'effetto della fusione dura un'ora! Sentito Vegeta? Per vincere abbiamo un'ora di tempo! Come faccio sopportarlo per un'ora? Siamo qui, Zamasu! E tu chi sei? Hai dato vita a un'unica entità, giusto? Lo abbiamo fatto anche noi! Io sono Vejeku, la fusione tra Vegeta e Goku! E questa fusione è il Vejeku blu! Non penserai di battermi con questa inutile trasformazione! Molto bene! È arrivato il momento della resa dei corti! Per favore, mortali, cercate di non essere ridigli! Per quale motivo vi ostinate aiutare di essere sottili? Proprio non riesco! Sognate di avere il nostro stesso potere, o forse vorrete avere il nostro stesso potere! Ok! Trovo sia tutto così in un spino, non capite quanto c'è di avere! Da sempre gli che avvertiti nei suprimi portano a me! Mentre le azioni di noi umani portano solo sotterezza! Per questo siete esseri inferiuti! Adesso stoppati! Visto che non ti impegni, passerò io all'attacco finale! Rendi questo! L'hai sfidato e tenete il finale! 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 Mortali! È sufficiente muovere un dito per parte fuoco! L'hai sfidato e tenete il finale! L'hai sfido! L'hai sfido! di ascoltare ciò che hai da dire. Su, coraggio, rispondi agli attacchi! Ne ho davvero abbastanza della tua superbia mortale! Che succede? E' tutta qui la grande forza di voi di esseri supremi! Maledetto presustoso! Aspetta! Mi stai provando tu! Ma tu non eri un ullerato! Adesso sto a prendere! Certo, io sono! Ed è per questo motivo che nessuno può sconficcermi. Presto mi sbarazzano di te e di ciò che resta dei uomini e sarà l'alba di una nuova! Erei in un netto libero dalla vita! Non hai capito che per te non c'è più niente da fare! Non potrai realizzare nulla di tutto ciò che hai appena detto! Oh? Black non è invincibile! E adesso che vi siete fusi tutte le debolezze degli esseri umani sono diventate parte di te! non c'è più niente! Ora nel tuo corpo vive un mortale di nome Goku! Io parlo con tutti voi più mi rendo conto di quanto siate ingenui! E così Goku è diventato parte del mio corpo! Bene! Era proprio questo che volevo! Nonostante tu sia un mortale la tua potenza supera anche quella degli esseri supremi! Tu rappresenti alla perfezione il fallimento di tutti coloro che hanno dato vita a questo universo! Ecco perché ho scelto di fondere il mio corpo con quello di Goku! Per accettare la vostra inferiorità e toccare con mano il successo dei potenti! Questo fa di me un vero essere supremo! Certo che tu hai sempre una risposta a tutto! Proprio questo quello che io faccio che ti ripone tempo per il bene dell'universo! È sufficiente! E adesso cosa fai? Viaggi? Sì! Queste mie lacrime purificheranno l'universo! Adesso basta! E libererò i tuoi mortali! Sono sempre adesso a dominare il mondo intero! questo è tutto da vedere! È tutto inutile! Io sono superiore! No! Tu sei finito! Com'è possibile? È già passata un'ora! o hanno utilizzato tutto il potere che alimenta la fusione! Sono superi che cosa accalto a tutti? GROA! Dimmi, dove andrai a chiedermi tutta la prossima volta? Nel passato o nel futuro? Quando ti metterai in testa che voi poveri mortali non siete altro che essere inferiori, lì che non c'è modo di opporsi alla giustizia suprema! Adesso ti taglio in cuore! Io non mi vergogno per le mie devotezze, col fatto per il bene degli anni, ed è solamente grazie a loro se sono riuscito a sopravvivere, noi non siamo... Pensi che la giustizia sia la sola cosa che conti, ma nessuno distruggerà mai la nostra voglia di vivere! Ma come fai ad avere tutto questo potere? Non avevo mai visto tanta forza in un solo attacco! Com'è possibile? Un mortale che si oppone! Un mortale che si oppone alla mia giustizia! Non è mai importato a nessuno della tua folla giustizia! Non è possibile! Non è possibile! Un mortale che si oppone alla mia giustizia! Non è possibile!